Ci saranno persone che si laureeranno i streaming da casa, quindi chi dalla Sicilia, chi dalla Puglia, chi... Mentre per noi che siamo già qui a Camerino, siamo venuti qui per festeggiare insieme a tutti i parenti, metteranno a disposizione delle aule, entreremo uno per volta, quindi troveremo un computer, andremo a interloquire con tutti i relatori, che saranno in una stanza adiacente. La proclamazione avverrà anche in streaming, chi si laurea da casa, quindi nella sala, quindi uno potrebbe laurearsi addirittura anche in pigiama, possono assistere dietro i familiari, mentre per le aule che hanno messo a disposizione qui Unicam, questo non sarà possibile farlo, insomma. Non ci potrai stare solo tu? Esattamente, sì. Marco, studente all'Università di Camerino, racconta come si prepara uno dei giorni più importanti della sua vita, Corona dall'oro sì, ma con la proclamazione in streaming, è la laurea ai tempi del coronavirus, quella per 28 futuri dottori in farmacia che domani, venerdì, affronteranno davanti ad un PC l'esame di laurea. Grande esperimento, abbiamo grandissima disponibilità da parte dei colleghi della Scuola del Farmaco, grandissima disponibilità e pazienza da parte degli studenti che ringraziamo per tutti i sacrifici che hanno dovuto sopportare in questi giorni, è per noi molto, come dire, triste il fatto che da un certo punto di vista ci dispiace che il momento della laurea, dell'esame di laurea non possa essere vissuto, diciamo così, per la festa che deve essere, ma assicuriamo che ci saranno momenti in cui queste gioie potranno essere condivise. Il certificato di laurea è fondamentale per poter svolgere la propria vita professionale, per partecipare agli esami di Stato, per partecipare ai concorsi pubblici, quindi non ce la sentiamo di posticipare l'acquisizione del titolo. La stessa piattaforma verrà usata con le dovute accortezze per situazioni particolari, anche per gli esami, ma soprattutto per la teledidattica, già rodata dall'Ateneo Camerte l'indomani del sisma del 2016. Noi abbiamo sin da allora un sistema di teledidattica in diretta e, diciamo, anche registrando le attività, basato su una piattaforma Cisco Webex. È una piattaforma estremamente interattiva. Gli studenti possono seguire in diretta tutte le attività didattiche al tempo del sisma, erogate nella sede di Camerino, ora in tutte le sedi dell'Ateneo, anche le sedi collegate, e lo studente avrà l'accesso a questa piattaforma da qualunque postazione collegata in internet, compreso un telefonino. Potrà intervenire con una chat, potrà intervenire in video, potrà porre domande, vedrà le presentazioni che facciamo, sentirà la nostra voce, vedrà quello che scriviamo alla lavagna o su un pezzo di carta, potremo mostrare modelli. Il sisma, brutto dirlo, ma è stata una buona palestra anche per questa emergenza? Sì, brutto dirlo, da questo punto di vista sì, ne avremmo fatto volentieri a meno, però, diciamo, perlomeno è rimasta questa capacità di far fronte a situazioni così limitanti.